Salve, sono Delio Di Blasi, sono candidato nella lista Cosenza in Comune con Valerio Formisani, il sindaco. Vi chiedo un voto alla nostra lista e al nostro candidato sindaco perché noi siamo l'unica lista di sinistra presente in questa competizione elettorale perché il nostro programma non è uguale a quello degli altri, noi siamo per la partecipazione vera dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, per la ripubblicizzazione dei servizi, dell'acqua, del servizio dei rifiuti, per creare un lavoro che abbia dignità, tutela e diritto.